Affluenza in aumento alle elezioni israeliane rispetto al 2009. Alle 14 ora locale ha votato il 38,3% degli eventi diritto contro il 34% di quattro anni fa. Tra i primi alle urne è giunto il premier uscente, grande favorito Benjamin Netanyahu. I voti del suo Likud e quelli dell'alleato israeli Beitenu non dovrebbero però bastare a formare un governo che potrebbe trovare un puntello a destra dai parlamentari dell'imprenditore colono Naftali Bennett. Altra ipotesi è quella di un assestamento invece verso il centro con il cadima dell'ex ministro Zipi Livni. L'area moderata si è arricchita anche della nuova formazione Yesha Tid guidata dal giornalista Yair Lapid. Ai laburisti non dovrebbero andare più di 17 seggi, in tutto sono 32 le formazioni in lizza in una competizione nella quale il tema dominante è stato uno. La sicurezza naturalmente è la prima questione, ma non ci si occupa della vita quotidiana. Tutto ciò che ti permette di stare bene nel posto dove vuoi vivere. Non ho aspettative in realtà perché la situazione in Israele è pessima e non c'è una leadership. Abbiamo bisogno di un'opzione arabo-palestinese, abbiamo bisogno di pace, dobbiamo guardare oltre l'economia. Ma la crisi si è fatta sentire anche in Israele, entrando di forza nella campagna elettorale pur senza riscaldare gli animi. Rispetto alle precedenti elezioni il clima è meno eccitato come ci si attendeva, ma a dispetto di ciò le persone hanno cominciato presto ad andare a votare. Sì, è stato un'amico, è stato un'amico. Sì, è stato un'amico, è stato un'amico. Buona Bayraktar, Bironiu, Tel Aviv. Grazie a tutti.